Il download sui più comuni device GPS delle aree create è possibile dalla finestra G4More gestionale sotto la voce Download Aree ed Upload Tracce. Aprendo la sottofinestra Download Aree verrà visualizzato l'elenco delle aree create in precedenza. Le informazioni relative alle aree possono essere scaricate sia in formato GPX che in formato KML, cliccando l'apposito comando Download. Ad esempio, se si vogliono salvare le informazioni relative all'area 1 in formato GPX, basterà cliccare il tasto Download e un file con il nome Area1 con l'estensione GPX verrà salvato nella cartella del PC nella quale sono destinati tutti i file in Download. A questo punto, collegando il device GPS al PC, sarà possibile copiare il file Area1 nella memoria del device GPS.